Siamo a provare la nuova Jeep Wranger 2008 CRD Invenzione montane sul percorso di Antares Allora affrontiamo un primo percorso sui sassi Per mettere a dura prova le sospensioni della Wranger Che però reagiscono molto bene Questo secondo passaggio è nel fango Fango molto solcato, quindi difficile Però la Jeep anche in questo caso reagisce benissimo Ora un piccolo percorso su sabbia Dove ci fermiamo anche Naturalmente con una versione 2.16 non potremmo mai ripartire Invece con 4.16 tranquillamente Wranger riparte e esce fuori dalla vasca Ora stiamo per affrontare una rampa di 25 gradi circa Quindi è breve ma piuttosto ripida La decisa invece è di circa 35 gradi Avendo inserito le 4 motorici non c'è nessun sistema elettronico di controllo della stabilità Però come potete vedere la Wranger scende tranquillamente con una estrema facilità e sicurezza Ora stiamo per affrontare un percorso twist Cioè con dossi ravvicinati Qui conta moltissimo l'altezza della terra Infatti normalmente i SUV non ce la fanno Ma essendo questo un fuori strada a tutti gli effetti Lo supera con agilità Tanto noi abbiamo una buca piena d'acqua molto profonda Che andremo ad affrontare a 45 gradi Per evitare di rimanere incastrati Anche in questo caso Wranger entra e esce molto facilmente dalla buca E questo, siamo alla fine del percorso Molto breve il percorso ma significativo Perché abbiamo voluto provare la vettura in tutte le condizioni più difficili Quindi sui sassi, sul fango, sulla sabbia, salita e discesa Un po' d'acqua e il twist E in tutti questi casi si è comportata perfettamente E in tutti questi casi si è comportata perfettamente